Andrea Conti ancora sul tetto d'Italia nel taekwondo. L'atleta ha vinto i campionati italiani cinture nere senior di Ancona. È il quinto titolo nazionale per l'atleta di Monte San Savino, classe 2002, che era già salito sul gradino più alto del podio nel 2015, nel 2016, nel 2019 ed infine nel 2021. Questo titolo italiano è stato più emozionante rispetto a tutti gli altri perché dopo l'anno scorso che non ero riuscito a riprendermi il titolo, quest'anno ce l'ho fatta, soprattutto sotto le fiamme rosse, quindi con il gruppo sportivo dei Vigili del Fuoco. Tutta l'attenzione che ho sentito i giorni prima di questa grandissima competizione le ho trasformate nel campo di gara, fortunatamente è andato tutto bene. È stata una bella emozione e il quinto titolo l'abbiamo riportato a casa. Per conti, già atleta dell'NR Gym Taekwondo Arezzo, si tratta della prima vittoria con la maglia delle Fiamme Rosse, il gruppo sportivo dei Vigili del Fuoco di cui fa parte da alcuni mesi e con cui lo scorso ottobre aveva già conquistato una medaglia d'oro al Dracula Open di Bucharest in Romania.